ciao allora oggi vi voglio parlare di questo correttore della glossip dice di essere un CC concealer correttore CC per contorno occhi allora intanto lo estraiamo e vi dico anche la quantità 6 ml viene 12,95 a prezzo pieno ma guardate sempre sul sito di Bottega Verde vi ricordo che glossip fa parte del gruppo di Bottega Verde ed è Made in Italy guardate sempre sul sito di Bottega Verde perché periodicamente fanno dei outlet promozioni e lo potete trovare anche a 9,95 o 5,95 quindi davvero rispetto al prezzo iniziale di 12,95 un bel risparmio allora la confezione è questa qui e adesso ve la mostro questa ok sì beh perfetto prima dico le cavolate poi perdo il prodotto si presenta così eccolo con la spugnetta applicatore adesso ve lo mostro meglio e vediamo che cosa promette dunque leggiamo stenda le sue occhiaie a imperfezioni della pelle con l'apposito applicatore e sfumare con le dita prima del fondotinta se si vuole il risultato più leggero dopo se si vuole il risultato più coprente ok allora andiamo a vedere allora le prime due cose che devo dirvi è che è un CC correttore quindi un correttore sì ma color corrector più che altro per il contornocchi non già detto che il colore che ho io è lo 02 più che un correttore ma lo vedete anche durante l'applicazione che adesso vi mostro più che un correttore di per sé va a uniformare il colorito della pelle quindi è proprio un CC una sì sì no un CC va a uniformare soprattutto le occhiaie quelle più marcate quelle più scure va a uniformare e poi dopo si applica sopra un altro correttore ed è per uniformare il colorito oppure direttamente fondotinta io quando non le ho molto marcate mi trovo bene anche a mettere questo poi fondotinta la cipria ed è va benissimo dunque adesso è inutile che parlo vi mostro il test e l'applicazione e poi concludiamo ciao allora oggi andiamo a testare questo correttore cc concealer di glossip dice dalla confezione correttore cc per contornocchi oh nient'altro perfetto allora guardiamo ok vediamo allora ho fatto la base ma non ho messo il correttore e infatti si vede dalle occhiaie quindi adesso andiamo ad applicare assieme ciao ciao allora cosa vediamo da subito che le occhiaie sono ancora lì quindi è proprio un uniformante ma non non corregge mettiamone solo un po qui proviamo col dito ok allora dunque eccoci qui questo è completato questo magari vi metto dopo risposto comunque aspettate ok allora questo è quello senza cipria e direi che sta già segnando e questo invece la parte con la cipria si è andato meno nelle pieghette perfetto considerato che ho appena applicato guardandolo da qua non è super coprente anzi quindi direi che più che altro è per uniformare l'incarnato e poi applicarci sopra un altro correttore senza cipria con cipria l'unica cosa che vedo per adesso è che è andato meno nelle pieghette nella parte con la cipria altra cosa da tenere in considerazione sono le imperfezioni ecco che le ho un attimo picchiettate col correttore ma si vede infatti che si vedono ancora ok comunque noi proviamo a vedere quanto dura e quanto tra quanto andrà ancora di più nelle pieghe sono le 12 06 e iniziamo ufficialmente il test ed eccoci con il primo aggiornamento allora sono le 15 e 52 e dopo iniziale increpamento nelle pieghe sembra che un po la situazione si sia fermata allora questa è la parte senza cipria e vedete che si si vedono le crepine ma non più di tanto questa è la parte con la cipria invece è ancora bella fissa adesso provo ecco forse così si vede meglio vedete che qui c'è tutte le crepine dei contornocchi mentre di qua sono meno evidenti meno evidenti perché il correttore non è andato nelle pieghe e quindi la cipria non l'ha seguito comunque vediamo con il prossimo aggiornamento tra qualche ora e vediamo come si è comportato comunque coprenza bassa ah le imperfezioni scusate ecco qui non non si sono spostate ancora più o meno coperto quindi a questo lato ci piace per adesso e sono passate quasi quattro ore allora eccoci qui siamo all'ultimo aggiornamento 19 55 dunque devo dire che una volta fissato fissato nelle pieghe però non si muove più quindi dunque vediamo un po questa è la parte senza cipria ed effettivamente è andato nelle pieghe poi vi farò con la luce naturale comunque mentre questa è la parte con la cipria e si vede un pochino meno adesso vediamo sul naso ovviamente è andato via tutto imperfezioni diciamo che otto ore ha bisogno di essere fissato con la cipria e poi ritoccato però per il fatto dei contornocchi si è segnato si si vede soprattutto in questa zona che è andato molto nelle pieghette di qui meno quindi va sicuramente fissato con la cipria e poi ritoccato coprenza e quali si vede bene coprenza come sempre le immagini parlano di più di quello che spiego io si applica con dato che la formula cremosa abbastanza cremosa si applica tranquillamente con il suo applicatore ma anche con le dita o con una blender io ad esempio tendo a lo applico ok però non lo vado a sfumare con questo perché sono scomoda lo applico e poi dopo se vuoi un risultato più coprente con le dita e lo picchietto se no lo sfumo con la blender si sfuma molto facilmente non crea macchie non crea stacchi di colore si fissa con la cipria e durante la giornata avete visto che non va a segnare il contornocchi se non dopo qualche ora ma è normale ed è anche la cipria che deve fare il suo lavoro una volta applicata ha un effetto seconda pelle quindi non fa strato non è pesante quindi anche per il contornocchi un po più segnato non va a creare troppo troppo peso sul contornocchi già vogliamo nascondere difetti se c'è un prodotto troppo spesso è ovvio che facciamo l'effetto contrario ma non è questo il caso a me è piaciuto vi ho detto nei giorni con le occhiaie più marcate lo vado applicare prima poi è il correttore fondotinta e fisso tutto mentre nelle giornate che le ho meno marcate direttamente con questo e poi fondotinta sopra e poi fisso tutto fisso sempre perché con la pelle mista devo fissare tutto sulle imperfezioni si quelle leggere le copre tranquillamente quelle più evidenti fa fatica ovviamente perché è un sì sì quindi magari sono arrossate tende a correggere un po la discoramia però devono applicare un altro correttore o il fondotinta sopra per nascondere del tutto ma è tutto normale per correttezza di informazione completezza di informazioni vi devo dire che contiene dimeticone come tantissimi altri prodotti in commercio non è una novità però ve lo dico nel caso ed è cerchiate prodotti che non lo contengono a me è piaciuto valido sì da tenere d'occhio con i prezzi scontati sul sito di bottega verde con gli outlet sicuramente un prodotto da tenere d'occhio soprattutto nel periodo estivo quando non abbiamo tappi prodotti sul viso questo cipria ci sta è abbastanza performante allora come sempre voglio sapere da voi se avete provato come si trovate se vi è incuriosito come prodotto e vi ricordo che se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me per ringraziarvi della vostra del vostro supporto della vostra presenza dovete semplicemente essere iscritti al canale e lasciarmi un commento in questo caso voglio sapere se vi è incuriosito l'avete provato vi interessa o non fa per voi e basta è semplicemente io mensilmente estraggo un commento tra le più attive del canale quindi vi vedo se siete attive se non è questo mese vi estrarò al prossimo tranquillamente estraggo una volta al mese e se siete attive vi tengo ad occhio tranquille anche se andate in ferie se andate in vi tengo d'occhio vi conosco ormai e ve lo ricordo anche a fine del video comunque spero di essere utile al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao